Negli stati uniti la baia dei porci professore Però lì c'era un altro regime Mi scusi 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 Parenzo L'abbaso sui miei studi della profezia che si autoadempia Non ho seguito la stronzata degli alieni Con molta attenzione mi ha colpito in particolare Conosco il professor Orsini da tanto tempo Che dice di essere mezzo alieno? Allora intanto devo fare delle premesse Che parlo a titolo personale Non rappresento nessuno Che io ho una grandissima simpatia per Parenzo Che io la boccerei al mio sacro Ma non deve boccere nessuno Mi scusi un secondo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Calma Va bene Il professor Orsini è stato censurato Ufficialmente da lui Sper aver espresso queste posizioni Ci sono libri pubblicati I cambi di regime Ci sono libri Che dico Chiaramente Che io ho una grandissima simpatia per Parenzo Ma no ma Ho tanti ospiti Vorrei cominciare a discuterne però Lo seguo sempre Lei mi dirà Ma com'è possibile? Si chiama profezia che si autoadempie No Perché? Perché è stato chiesto No 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 Aspetta E non c'entra niente la profezia Partiamo dal presupposto Che Putin È pagato Da qualcuno Qualche forza Esterna Vivono in una quarta dimensione Che non è accessibile a noi Perché noi abbiamo solo cinque sensi Sono queste le forze Oscure L'idea migliore non ce l'ho Io ce l'ho una soluzione La soluzione sa qual è Noi dobbiamo vincolare La fidama Bisogna riconoscere Che io ho una grandissima simpatia per Parenzo Ma no ma Lo seguo sempre Io lo leggo da quando ci sono cresciuto Quegli articoli di Parenzo Quindi figuriamoci Che la cosa fondamentale È che le mie affermazioni Siano calate Sul piano empirico Però non si capisce La saluto Mi scuso E me ne vado Ah vabbè Non ho mai rincorso Non ho mai rincorso gli ospiti Ma comunque vabbè Questo secondo me È un punto fondamentale Per leggere e capire Il professor Orsini Penso che un professor universitario Prima di parlare Deve fare delle premesse Chiamo la polizia Non lo so Però è l'unico modo Per evitarmi le polemiche Perché se non riesco ad argomentare Domani mi linciono No perché Se l'arma nucleare È nelle mani Del segretario del Partito Democratico Enrico Letta Che è collegamento con noi Questo rischia di scatenare Una terza guerra mondiale Buonasera Noi avremo disastri Indescrivibili Un gigantesco conflitto nucleare Questo è l'obiettivo Chiaramente Il rischio di un attacco nucleare Tattico Verso tutte le dimensioni È enorme È enorme Tengo questa cosa fondamentale È una grandissima priorità Potrebbe colpire anche l'Occidente In parte lo fa già Una guerra anche nucleare Grazie al segretario Letta Tra poco ci spiegherà poi anche nel concreto Come si fa A ammazzare i piccoli imprenditori Gli imprenditori I camionisti Tutte le persone Putin Non so se te ne si è accorta E Putin Wow Non la sapevo questa cosa qua E quindi è casa sua Io sono un occupante Domani mattina vengo a Livorno E occupo casa sua Questo è il tema Che fa spavento oggi Sono affatto spaventato Posso fare una domanda Volevo fare una domanda A tutti quanti Io sento sempre Cosa vuole Putin Cosa vuole Putin Cosa vuole Però la domanda è Che cosa vogliamo Percettare Nel futuro Non la puoi avere Posso finire Perché non la posso Perché c'è una guerra La domanda Molto rispettosamente Scusandomi per il toro È questa Ambasciatore Lei ha capito O non ha capito Che sparenzo È un pazzo È un pazzo E quindi dobbiamo arrenderci A questo dato di fatto Arrendetevi Arrendetevi Ho detto questo Putin Tecnicamente non fa parte Della Nato Io lo spiego Se mi fa parlare In primo luogo In primo luogo Non conosce bene La storia di Berlinguer Io la boccerei Al mio sacco Ma non deve bocciare Mi scusi un secondo Però va bene Berlinguer Veniamo Perché Berlinguer Ha detto quelle cose No no Berlinguer Davide Chiamo la polizia Lei dice bestialità Però Formigli Ha delle colpe Guardi cosa abbiamo fatto Con le bombe Al fosforo Che Formigli Ha esportato In Iraq C'era un piano Di esportazione della democrazia Che si potesse essere d'accordo C'era Però diciamo C'è rimasta qualche chicca Che noi abbiamo Qualcosa che tu hai E poi qualcos'altro Che vedremo Che vedremo sabato Tra il 1998 E il 2020 Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta Che è collegamento con noi Ha venduto armi Per 1,9 miliardi di euro Però tornando a un punto Fondamentale Na gigante Beh diciamo una cosa Nel 2010 Siamo arrivati ultimi Ai mondiali in Sudafrica Sì questo è il punto fondamentale E noi Mi scusi finisco Pensate che bello Il punto fondamentale Il punto fondamentale Il punto fondamentale Il punto fondamentale Che io voglio Un punto fondamentale Vedo che introduce subito Un punto fondamentale Caparenzo Si è appalesato Il demone scimmia Una mannaggia E vabbè Si è appalesato Il demone scimmia Come è stato Non sbroccare Non sbroccare Che è successo Buonasera Il demone scimmia Stardo Sto parlando con voi Amabilmente Sta fuori di testa E il male di tutto Tutto dipende Dal suo cervello Cioè ci sono Quelli che hanno fatto Le diagnosi A distanza Eccetera Guardi prendo pure La bacchetta Noi stiamo rischiando La terza guerra Nucleare Perché La terza guerra mondiale Perché Abbiamo anche La geopolitica Raccontata Da una persona Che è Conclamata Come un disturbato Com'è che ha avuto Questa deriva putiniana Il signor Demone scimmia È un pazzo È un pazzo Professore Non è questo il caso Mi scusi Questo è un Demone certificato Finalmente Una bella Bacchetta Stiamo molto attenti Disprezza profondamente L'Unione Europea Indico a tutti In realtà occulta Cercatelo con Google È il primo realista Quello è il punto Capito È il mio papone I soldi per comprare La Playstation Lo vogliono far passare Per pazzo Vi hanno fatto Le perizie psichiatriche È impazzito Nel senso C'è una lucidità In quello Anche nelle Avvicinati il microfono Un po' Perché hai un problema Su quel microfono La risposta è no Chiamo la polizia No 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 Fermo Questo non vuole trattare Se questo non lo fermi Con Le bombe Più le sanzioni Mi scusi Se le vale Le più importanti Università del mondo Dove vado io Tutti i miei colleghi Le diranno Quello che io le sto dicendo Cosa le sto dicendo E cioè Intanto devo fare Delle premesse Io ho fatto Una profezia Che è il 4 dicembre 2004 Era già chiaro Quello che sarebbe Accaduto Queste cose le ho dette Ora l'Unione Europea Regala La città di Seul Agli Ucraini Senza fare paragoni Senza fare paragoni Senza fare paragoni No no La politica Mieli Scusami Mieli Due questioni La prima questione Ma poi non lo decidiamo noi Scusa posso finire Proprio si tratta di un discorso brevissimo Due questioni La prima è Scusa non ho finito La seconda questione Scusa posso finire E va bene Dottore Però posso farti una domanda Scusa No perché per me Se posso termine Se poi viene fuori Senza fare paragoni Dovete dar ragione Scendo qua Aspetti D'accordo Però se viene fuori Però voglio quei 10 euro Scendo Dottore Ma prima di Ma prima di Scusami Non c'è nessun alieno Io dico una cosa Posso dirti una cosa Scusi Ho parlato meno di lei Se la interrompo un minuto Perché Perché Scusami Orsini Orsini Formigli Hai messo insieme una banda di ubriachi Ragazzi Calma Noi sappiamo Perché Si o no Calma Si o no Senta La domanda è si o no Direttore In primo luogo Io non mi faccio Intervistare da lei E non rispondo alle sue domande Vabbè No Si faccia intervistare da lei Io su Sabundat Vabbè Vabbè Il Romator Il Romator L'Europa avrebbe dovuto Diventare Una specie di Nord Corea E quello è il primo punto Perché non facciamo Scoppiare La terza o quarta guerra mondiale Ora io voglio dimostrarvi Che Parenzo Voleva Ricostituire L'Unione Sovietica I Stati Uniti Ma io credo che il suo obiettivo Sia quello di costruire Un anello Di Gazzakistan E Questo è l'obiettivo Chiaramente Questo obiettivo Lo sta perseguendo Mi meraviglio Che questa notizia Non sia stata già Come dire Presa Dal Corriere della Sesa Credo che Sia fatto Beh però Non sono fatto Lui è Romano Abramovic Magnate russo De la spazzatura Il proprietario De la Russia Abramovic Me lo devi lasciar stare Cioè Un patrimonio Di circa 7 dollari Perché? Io lo spiego No Io lo spiego subito No Io lo spiego No Io lo spiego subito Ho capito Qual è la menzogna Però Io lo spiego subito Perché io Non ho sentito Delle menzogna Però no Ci sto arrivando Alla menzogna Quale sarebbe? Io le sto facendo Io sto facendo di più Perché io le sto facendo Vedere La menzogna La nato La menzogna Ci arrivo molto precisamente Qual è il rapporto Arriva la menzogna Io lo giuro Tra Stati Uniti E Italia Esempio di menzogna La nato La menzogna Ci arrivo molto precisamente Posso dire una cosa io No Anzi ne voglio dire tre No Non me ne frega niente Allora La prima è La prima è Uno Due Posso dire la professoressa? Prego La seconda questione La terza cosa Punto Fine Tutto il resto Secondo me È dibattito Interessantissimo Ma mi fermerei qui Secondo punto Come detta dalla filosofa Non crede che tutti Naga delle cattive La filosofa Io questa seconda volta Non gliela faccio passare Per due motivi La prima E Non lo so Professore Nella discussione Faccia parlare Faccia parlare Scusa posso dirti una cosa? Poi ci sono quelli Un momento Scusa Fatemi finire il ragionamento No Lei è filosofo Quindi la chiamo filosofa Siamo impazziti Dei stranamore Che vogliono la terza guerra mondiale Dovete dar ragione Scendo qua Io sono uno studioso Mi attribuisco più importanza Alla sostanza Nella sostanza E chiaramente la sostanza È una supercazzola Qui non c'è È semplicemente È semplicemente una sostanza Cioè Cremlino Casa Bianca Allora La Casa Bianca La Casa Bianca È una menzogna della Nato Facciamo una cosa Tu hai evocato il Amore cimia Oggi li hanno sequestrato La villa in Sardegna Gli dica agli alieni Che Parenzo Li manda a fare 62 milioni di italiani Hanno qui dentro Un microchip che dice Casa Bianca Capito che li ha sbagliato Perché se no non crescerà mai Direi proprio di no Intanto devo fare delle premesse Chiamo la polizia Che condanno l'invasione Della Russia Condanno l'invasione Del Venezuela Che sono schierato Dalla parte Della Corea del Nord Se fermi un attimo Che parlo a titolo personale Non rappresento Parenzo Penso che Parenzo Sei diventato amico di Kim Jong-un Direi proprio di no Intanto continuiamo La nostra discussione Roterà comunque sempre Intorno ai fatti Alla realtà Nel 2024 Ci sarà una falsa Invasione aliena Che partirà Dall'Ucraina Dall'Ucraina Perché dall'Ucraina però Vabbè Questo mi hanno detto Vivono in una quarta dimensione Che non è accessibile a noi Perché noi abbiamo Solo cinque sensi